Ditemi dove trovate un tycoon, dove prendete, siete un minion, vi sedete così nella vostra poltroncina e vi guardate Spongebob E ragazzi, come va? Io sono Feriniki E io sono Steph, e qui si chiama Roblo E oggi ragazzi, siamo su Cinema e Tycoon Ovviamente come da nome andremo a costruire il nostro vero e proprio cinema E la cosa più fantastica è che potremmo addirittura riprodurre i film Ah, pensavo che la cosa più fantastica fosse che abbiamo i pascorn Anche, quella è un'altra cosa molto molto fantastica Guarda, abbiamo anche le patatine, l'iPhone, magari nella pausa che un po' ti annoi Eh, ma si spegne il telefono quando si entra al cinema Signorina, è di quelle maleducate che lo fa squillare durante il film? Io no, io no Meno male, meno male E poi abbiamo anche una bellissima lattina Ho il dubbio, le patatine sono quelle che fanno un brutto effetto quando le mangi? Prova a mangiarle Ok, no Meno male E anche il popcorn possiamo mangiare No, sono troppo grandi, troppo grandi Iniziamo, abbiamo giusto messo il primo dropper Che come vedete è questa cosa qua che cadono così E ho notato che si fanno un bel po' di soldi Infatti abbiamo già 2400 Wow Upgrader Altro moneymaker Upgrader per il secondo moneymaker Ok E qua ci sono già cose un po' particolari Ovvero le cose per i parcheggi che sinceramente non ci interessano Questa è la mia macchina Ti piace? Molto carina Bel colore, sì, bel colore Ci posso assolire? C'è solo un posto Sto qui dietro Sto qui dietro e sto ferma Ok, va bene Bellina, bellina, si guida bene Su, vieni qua che iniziamo Ma l'hai vista sta cosa a proposito di macchine? Oh mio Dio Limousine La limousine Ma scherzi, il cinema di lusso Questo, bellissimo Comunque Eh, però non ce la possiamo permettere Dicevo, contando che abbiamo tantissimi tasti Direi che inizierei a dare forma al nostro cinema Sai quanti sono questi tasti? 94 Esatto Mi hai già detto Quindi sono tantissimi E non so quanto ci vorrà a fare tutto Ma sarà fantastico Allora, io compro questo Uh, ok Ok, cosa dovrebbe essere? Oh mio Dio Ok, questa è sicuramente la parte esterna del cinema E metti le locandine Star Ma tutti i film bellissimi I Minions e Star Wars È fantastico Poi abbiamo qua la porta Ok Bellina, mi piace Poi abbiamo Probabilmente devi avere i muri? No, invece non ho più soldi Sì, infatti Ah, ok Sono rimasto con 75 Cosa è comparso? Il tetto Vedi che è un'altra parte del tetto No Stiamo sbagliando tutto Stiamo sbagliando tutto Hai finto i soldi di nuovo Chiedo perdono Chiedo perdono Però guarda È talmente veloce Che abbiamo di nuovo 1500 Posso farti vedere una cosa? Dimmi, dimmi Guardami negli occhi Ok Ah, dove li hai presi? Ce l'hai a sinistra da cliccare Dove? Oh mamma Fammi vedere Non ci credo Ma li tengo tutto il tempo Sono fantastici Mi verrà un mal di testa incredibile Ma ma li tengo tutto il tempo Sono troppo belli Popcorn più che all'interd Perfetto È proprio La giornata giusta È la mia giornata preferita Guarda Cinema, popcorn Fantastico E ti migliora ancora la giornata Dicendoti che abbiamo 9000 da spendere Ok Quindi i muri Finalmente Il nostro cinema Prende forma Sin Sin Inside Out E poi cosa c'è? The SpongeBob Movie Questo è l'unico che non abbiamo visto Questo sì L'unico che non ho visto Quindi Non so se sia bellino Però Non lo so Devo dire che la locandina Con SpongeBob muscoloso gigante Non mi ispira proprio Ma perché l'hanno fatto 3D Cioè li hanno fatti 3D E poi muscoloso Non è così Non mi ispira A me non mi ispira No, neanche a me Neanche a me Fateci sapere almeno Se è un bel film Se vale la pena vederlo Entriamo dentro Allora Scegli una cosa Vai Allora Quanti tasti Sono tantissimi Ma mi stai mettendo in difficoltà Eh lo so Difficile scegliere L'ho trovata Vai Giant Candy Floss Statue Dovrebbe essere Sempre alle caramelle Sempre alle caramelle Eccolo Mangia Sempre i dolci Ci ho azzeccato Se vedessi una cosa del genere Nella realtà Mi ci appenderei proprio Guarda Ha lo stesso colore di miei capelli Quindi è perfetto per me Guarda Siamo perfetti Capisco Io invece Per la mia scelta di acquisto Ho scelto questo Guardami Sono dentro la macchina Dei popcorn Che cos'è questo cerchio Secondo te Non è che fa da dropper E ci va a fare soldi Non credo Dovrebbe essere Per far cadere i popcorn Ci sei caricato dentro Per mangiare direttamente i popcorn Ancora prima che cada Ho fatto un achievement Non so bene come Il problema è che Sono incastrato Lasciami qui con i popcorn Ok Ok Ci penso io al cinema Non ti preoccupare Guarda Fai vedere Aspetta Aspetta No ma è troppo bellino Questo tycoon Cinema Io voglio comprare Facciamo tipo questo Che non Oh salve Buongiorno Aspetta Gli devi mettere anche la cassa Però perché poverino Sta Aspetta Aspetta Dimmi Ascolta Scusi Allora vorrei due biglietti Per Inside Out Ma io non lo sento Aspetta Ma senti qualcosa No No Ah ce l'ho inventato Il suono No prima Perché vuoi che puoi prendere Prima l'ho sentito Oh salve Spider Ma Chi mi ha Si è stata spinta Chi ha fatto volare È stato Spider Vedi The Amazing Spider No comunque i film Sono tutti di anni Di anni un po' sconnessi Ci siamo presi Una pausetta di 10 minuti E adesso abbiamo 27.000 Ok Quindi Spese folli nel cinema Andiamo Andiamo Prendo la limousine No 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 La lasciamo Alla fine Perché voglio prima Costruire il cinema Quindi andiamo dentro Dai Allora Questo secondo me Esatto Come pensavo Diamo il bancone Al povero Recepzionista Pam No che bellino Che carino Guarda quanti sono Allora prendono i biglietti Vediamo se riesco a riprendere Il campanello Lo sapevo già che prendono i biglietti Però non c'è fila Ci serve un po' di clientela Oh mio dio Questa non me l'aspettavo Questa è tutta la sezione caramelle Guarda Tutti di un like To buy some candy Sì Sì Ne vogliamo un sacco Tutte Che buone Mamma mia Ma li puoi mangiare Oh mamma mia Davvero? No li abbiamo semplicemente fatti cadere Ah ok No Siamo dei vandali Hai rovinato tutto Si fa cadere Allora devi stare Bisogna fare attenzione Perché casca tutto Non sentiamoci più sopra Allora non andiamo più lì Andiamo Esatto Andiamo via Finita questa sezione Sì 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 Abbiamo ancora un bel po' di soldi Allora Guarda qua Bellino Bellino È proprio la classica cosa da cinema Sì ci sta C'è nel cinema Poi L'entrata Oh mamma mia No Qua ci saranno tutte le sale Scommetto Sì Ma è bellissimo Vediamo se possiamo comprare il primo schermo Sì 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 Quale sarà? Questo Questo 3000 Ma è bellissimo Ma è bellissimo No non vedo l'ora di avere anche le sedie Quindi ci possiamo sedere È fantastico Ok dammi un attimo Pam Che non so bene a cosa serva Ok Poi pam Pam Uh mi hai fatto volare Eccoci Troppo carino Un cinema privato Bellino piccolino Mi piace Esatto Mi piace molto Allora abbiamo ancora 7500 Vai a sto punto questo che cosa serve? La tende Giustamente è bellissima Prima sarà andata Bellissima Sì È questa Ma Che cos'è? Perché ci sono consolini Che riescono a trasformarsi in animali? Io prima Ma di che è una tartaruga? Prima ho visto Io prima ho visto Un tacchino No Poi voglio questo viola Questo viola arrabbiato Non ci credo Aspetta Mettiti popcorn Ma se no Mi coprono la faccia Esatto Sono giganti Bevi la lattina Bevi la lattina Oh mamma mia è fantastico Sto guardando il telefono Guardami Guardami Sono un minion Si è chiuso al telefono Giustamente L'iPhone Perché ovviamente È un minion Sofisticato No è bellissima questa cosa Non sapevo ci fossero anche le trasformazioni Non è affigata Bellissima Mi ha preso all'astrovista Cioè guardate Bellissima Ditemi dove trovate un tycoon Dove prendete Siete un minion Vi sedete così Nella vostra poltroncina E vi guardate Spongebob Oh no Fantastico Guarda Senta benissimo Guardami Che bellina Siamo troppo bellini E ma sei un po' arrabbiata però Sì 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 Mi piaceva sempre lui Vieni qua Tieni questa lattina E calmati Grazie Ti stai calmata un pochettino Sì Ho notato un problema Quale? Anche in una mappa così bella C'è la zona VIP No Non ci credo Andiamo a sistemare questi problemi immediatamente Non ci credo Allora Lo sapete come funziona Noi siamo i VIP E ci dovete far entrare Prova ad entrare Vai Fammi entrare Niente Sfondo tutto Disgraziati Sfondo la porta Disgraziati Sfondo la porta Che succede? Sono svenuta Allora io sono morta e tu sei entrato? Mhm Come funziona questa cosa? Dove sei? Come hai fatto ad entrare? Non te lo dico Vieni torniamo al VIP Adesso scommetti che riesci ad entrare tu Ok In quello di sinistra Perché il mega VIP è un'altra cosa ancora Esatto e poi c'è pure l'ultra VIP Quindi qua Prova ad entrare? No ci ho già provato e sono morta Si è morta? Si guarda Vedi che non mi fa entrare Guarda Eppure guarda Vedi? No com'è possibile? Non lo so Ma l'hai comprato? No Ha messo la mia sopra l'altra Quindi fa un po' un effettino bruttino Però per il resto È fantastico Sono bellissimo È fantastico Ok allora ci vediamo tra una decina di minuti Io resto lì a premere le cose Per fare un sacco di sciogli Ok 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 Comunque l'ho comprato Eh lo sapevo Sono disgraziato Mi stavo trollando È vero è impossibile Mi hai fatto morire venti volte Ho partito di scherzi È talmente bellina la mappa Che mi faceva piacere dare qualche soldino È giustamente Perché l'hanno fatto davvero bene Quando fanno un buon lavoro Se lo meritano Esatto Se lo meritano davvero Allora Questo qua a sto punto lo voglio comprare Oh Cinema in rosso al neon È tutta un'altra cosa Fantastico Allora Quindi adesso Ticket Vediamo che cos'è No Ticket please Ma sei bellissimo Bellissimo Io sto senza parole Ogni cosa che mettiamo È sempre più bella Guarda Guarda È fantastico Sto cinema Bello 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 Allora Questo qua Che cosa serve invece Ok Non saprei bene A cosa dovrebbe servire Però sono due monitor Che stanno qui Vieni qui dentro Ci compriamo Il computer Ok Mi sono seduto Ok Serve qualcosa Oppure solo Mi sta di no Sono comparse le scale Andiamo Ok Secondo piano Ok Mamma mia Oh ma quanto è grande E ci sono altre due sale Sì non ne vedo altre Quindi due Ok Guarda che c'è la piantina Oh bella Belle anche le decorazioni Belle belle Questo Credo che sia realmente un film Sì perché c'era scritto Aspetta che compro tutto Così ci sediamo Scusate Aia mi hanno steso Aspetta che arrivo Aspetta che arrivo Sì Stai iniziendo il film Vai 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 Vabbè ma ti guardi tutto il film Abbiamo i popcorn Sì Che poi credo siano proprio fotogrammi Vedi Sì 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 E aveva un poker d'assi È stato molto fortunato Sì Guarda mi metto Guarda la faccia dell'altro Dice no Ho perso i popcorn Ho perso tutti i miei soldi Infatti ho perso i soldi Sì infatti ho perso i soldi Seconda sala finita Possiamo uscire Aiuto Sono un po' troppo veloce Ok vieni 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 che finiamo anche questa Allora Screen Ok Machine Perché i popcorn devono essere ovunque È la regola per il cinema Qua invece cosa proiettano? Guarda Nyan Cat Film Vieni 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 No Lì da davvero Oh Voglio questa Non ci credo Voglio questa Voglio questa Dai però spostatevi I waffle Non riesco a prendere nulla Ehi Che hai? Dove sei? Guarda il tizio dei ticket Come hai fatto a entrare? Quando l'ho comprato ero dentro E mi sono incastrato Cioè E sei lì dentro per sempre a vendere i biglietti? Sì Vuole un biglietto? Sì grazie 5 euro Ho una sorpresa per te Guardami Mi effetti avverrei una Pepsi No mi devi guardare Perché sei diventata gigante? Perché ho il tuo stesso corpo Non lo vedi che ho l'uncino e la gamba di legno? Ma perché? Ma se Come? Dove l'hai preso? Segreto Ma col tastino Morph? Sì col tastino Morph Mi sono trasformata come te Aspetta Aspetta ne voglio un altro Voglio Oh mamma mia che bello Che sei Non riesco a chiuderla però Ah ok C'è la X C'è la X Sono il conte Dracula No Bellissimo Bellissimo Fantastico Dai finiamo la sala Così finiamo il nostro cinema Pam 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 Le tende? Ce la fai a prenderle? Sì Sì Finito Finito Ce l'abbiamo fatta ragazzi Abbiamo finalmente il nostro cinema gigantissimo pieno di sale E possiamo vederci un sacco di film adesso Sono quasi commosso Sì ma Nyan Cat non mi piace Quindi non lo voglio guardare Nyan Cat è semplicemente così all'infinito Esatto Quindi possiamo guardarci Cattivissimo Me 2 Che sarebbe in questa sala qua Guarda questa è una buona idea Va bene va bene Continuiamo a guardarlo Io ho delle patatine al formaggio Ne vuole un po'? Sì grazie Ma è iniziato? Eh forse sì 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 Forse saranno solo delle immagini Non lo so Non lo so Comunque i consolini sanno bene Che non è del tutto finita la mappa Perché c'è l'ultima cosa da comprare La limusine è vero Me la sto dimenticando Esatto Eh però non credo che abbiamo i soldi Quindi credo che dovremmo restare altri dieci minuti fermi Però la dobbiamo comprare No la limusine sì La sto aspettando da tutto il video Guarda sono felicissima Abbiamo 7000 Quindi siamo a 8200 Su 17000 Siamo poco meno di metà Arrivo velocissimo Su 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 Limusine Limusine Dai che non ve l'ora Io spero che la possiamo guidare Lo spero proprio anche io Pronta a salire perché è pieno di consolini Che vorranno salire sulla limusine Vai 3, 2, 1 Sì 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 Dov'è? 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 No eh No eh Dov'è la mia limusine? Ma sta comparendo lì Sì Hai notato che sta Un bug incredibile Che sta comparendo nell'altro Tycoon Perché come lo premevi tu a Parivali Vedi che lui infatti non ce l'ha la limusine Entra Scusi Devo Oh mamma mia Devo guidare Sono seduta dietro Siamo tutti seduti dietro Ci stiamo tutti Siamo pronti? Yeah Comunque si è notato che non aveva la limusine comprata Quindi era proprio la tua che spawnava in un altro Tycoon Questo è il bug più grande del mondo Cosa c'è lì davanti? Non siamo mai rivenuti qua Ma c'è un parco giochi Aspetta Aspetta no Voglio scendere Un mini hobby Per arrivare a una super tortina Ah lo dobbiamo fare per forza Ok però se mi spingete È un bel problema Eh sì Mi hanno spinto Mi hanno spinto Mi hanno spinto Olè Credo sia totalmente inutile Io sto saltando nel trampolino Come? Che succede? Mi ha ucciso A che sta succedendo? Perché qualunque cosa mi uccide oggi? Ma non lo so guarda Non lo so Guarda quello che Si è buttato dritto con la macchina nel lobby Vabbè Era un buon piano Vabbè Era un buon piano Io l'ho apprezzato E qua cosa succede? Niente Stai qui in mezzo Con queste palline colorate Sì 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 Non succede nulla Molto divertente Il più bello è il trampolino però Perché salti davvero in alto È il più bello secondo me La provo subito Grazie Vai 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 Comunque abbiamo finito la map È stata bellissima Anche la limousine È stata davvero carina In ogni caso ci facciamo l'altro così Ci fermiamo così Per questo taikun È stato davvero carinissimo Uno così carino Non lo trovavamo Da un bel po' di tempo Quindi sono super felice Di averlo giocato E ci fermiamo così ragazzi Bene che si riuscite così Se vi è giusto lasciateci un bel like E se la prima volta che avete un nostro video Potete considerarli Da iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao alla prossima Ciao 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 ciao